Nella prima lezione avevamo introdotto le molecole organiche e di come piccole modificazioni della composizione atomica generino molecole molto diverse tra loro. Sebbene le molecole organiche siano composte da gruppi molto eterogeni di molecole, ve ne sono quattro importanti per la biologia e che meritano una trattazione individuale. Proteine, lipidi, glucidi ed acidi nucleici. Queste sono le quattro famiglie di molecole biologiche che principalmente costituiscono gli organismi viventi. In questa lezione trattiamo le proteine, le molecole organiche più complesse ed eterogenee, di dimensioni molto variabili. Una singola cellula umana contiene miliardi di proteine. L'unità fondamentale delle proteine è l'amminoacido. Esistono numerosissimi amminoacidi diversi. Alcuni di questi non sono naturali, ma vengono sintetizzati in laboratorio. Di quelli naturali, solo 20 si uniscono a formare le proteine. 9 di questi, sebbene indispensabili per l'uomo, non vengono prodotti dalle cellule e devono essere introdotti con l'alimentazione. Per questo, vengono definiti essenziali. In quanto molecola organica, la sua struttura si basa su un carbonio centrale, definito carbonio alfa. A questo è legato un idrogeno, un gruppo amminico, un gruppo carbossilico ed un gruppo variabile, che indichiamo genericamente con R. I diversi amminoacidi differiscono tra loro proprio per questo gruppo. La glicina, ad esempio, ha semplicemente un altro idrogeno, come il gruppo R. Ci sono amminoacidi, come la cisteina, che contengono zolfo nel gruppo R, che gli permette di formare particolari legami che vedremo. E amminoacidi, che hanno gruppi R estremamente complessi. In basse al gruppo R, i 20 amminoacidi proteici si sottividono in polari, se si sciolgono bene in solventi polari come l'acqua, apolari, se invece si sciolgono in solventi, appunto, apolari, positivi, se il gruppo R si ionizza perdendo elettroni, o negativi, se il gruppo R si ionizza acquisendo elettroni. Infine ci sono gli amminoacidi contenenti anelli aromatici. Aromatici perché la presenza di questi conferisce un odore intenso e caratteristico alla molecola. Le parti costanti dell'amminoacido, il gruppo amminico ed il gruppo carbossilico, si legano tra loro formando così le proteine. Questa reazione, apparentemente semplice, nasconde un processo complesso che richiede molta energia alle cellule. In base alla lunghezza della catena amminoacidica, distinguiamo le proteine in oligopeptidi, se sono composti da meno di 20 amminoacidi, polipeptidi se sono composti da 21 a 100 amminoacidi, e macroproteine composte da più di 100 amminoacidi. Attualmente, la proteina più grande che conosciamo è la titina, composta da circa 33.000 amminoacidi. La struttura di questa catena di amminoacidi, che rappresenta le proteine, è molto complessa. Per questo la descriviamo a più livelli. La struttura primaria descrive la semplice sequenza di amminoacidi diversi. La struttura secondaria descrive dai piegamenti più semplici che questa catena forma. La catena amminoacidica, infatti, non è rigida, ma può ruotare attorno al carbonio centrale. Se però la catena può ruotare liberamente, devono esserci delle forze che la stabilizzano in una determinata posizione. Questa forza è data dai legami idrogeno che si formano tra i gruppi amminici e carbossidici degli amminoacidi. I gruppi R non sono attivamente coinvolti nella stabilizzazione della struttura primaria. La struttura secondaria più comune è l'alfa-elica, in cui la catena amminoacidica si avvolge appunto in un'elica. Poi abbiamo i filamenti beta pieghettati. Più filamenti beta si allineano formando un foglietto beta. Poi abbiamo i ripiegamenti. Angoli di torsione molto stretti che la catena forma in punti, come ad esempio la congiunzione di due filamenti beta antiparalleli. Ovviamente, come potete intuire, la proteina non ha una struttura tutta uniforme, ma spesso alterna alfa-eliche e foglietti beta e non tutti i segmenti hanno struttura secondaria ben definita. Esistono anche tratti liberi della proteina caratterizzati da avvolgimenti casuali. Un tipo particolare di struttura secondaria è quella della tripla elica di collagene. Questa struttura rappresenta un tipo di elica diversa dall'alfa-elica, perché non è una struttura stabile a sé stante, ma richiede che tre proteine con la stessa conformazione ad elica si incastrino tra loro per stabilizzarsi. La struttura terziaria descrive invece l'aspetto complessivo e macroscopico che la proteina acquisisce. Le strutture terziarie più comuni sono quella fibrosa e quella globulare. E' importante chiarire che la struttura terziaria è svincolata da quella secondaria. Esistono ad esempio proteine fibrose basate sia su alfa-eliche, come la caratina dei capelli, che su foglietti beta pieghettati, come la fibroina della seta. A differenza della struttura primaria, la struttura terziaria si basa sulle interazioni tra i gruppi R. Le prime interazioni sono quelle idrofobiche, ovvero la tendenza delle porzioni idrofobiche a raggrupparsi e ad isolarsi dall'ambiente acquoso. Questa forza di attrazione tra i gruppi idrofobici è una forza apparente, in quanto solo le molecole polari all'acqua si attraggono e lasciano escluse quelle apolari. Dato che l'ambiente cellulare è costituito prevalentemente d'acqua, le proteine finiscono per nascondere nel nucleo le porzioni idrofobiche e ad esporre all'esterno quelle polari per interagire con l'acqua. Poi abbiamo i legami ionici, che si instaurano tra amminoacidi positivi e negativi. I ponti idrogeno hanno un ruolo anche nella struttura terziaria, questa volta però sono prevalentemente a carico dei gruppi R. Ed infine abbiamo i ponti di solfuro, che si formano tra gli zolfi delle code di cisteina. La struttura terziaria della proteina dipende quindi dalle proprietà dei gruppi R. Se la proteina viene esposta a condizioni di temperatura o pH estremi, le caratteristiche di questi gruppi R vengono alterate, si rompono i legami e la proteina perde la sua conformazione originale, si denatura. Tuttavia, se le condizioni ambientali vengono ripristinate, gradualmente la proteina può recuperare le sue caratteristiche e ripristinare la conformazione originale. Alcune proteine possono aggregarsi formando una struttura ancora più complessa, chiamata struttura quaternaria. Attenzione, questo livello non descrive la struttura di una proteina, ma di un gruppo di più proteine. Un esempio di struttura quaternaria è il filamento di actina costituito da numerose actine globulari. Non è detto che solo proteine uguali possano formare una struttura quaternaria. Ad esempio, i microtubuli sono formati da dimeri di due proteine diverse, l'alfa e la beta tubulina. Ovviamente, esistono strutture quaternare non solo di proteine globulari, ma anche di proteine fibrose, come nel caso del collagene. Ed esistono, infine, proteine coniugate a componenti non proteici, che prendono il nome di gruppi prostetici. Questi gruppi possono anche contenere metalli, come nel caso dell'emoglobina, la proteina che trasporta l'ossigeno nel sangue. In caso di carenza di ferro, ad esempio, si sviluppa una condizione definita anemia, in cui il sangue non riesce più a trasportare efficientemente l'ossigeno, e il soggetto affetto si stanca e affanno dopo i più piccoli sforzi. Continuiamo il discorso sulle altre molecole biologiche nei video successivi.